Il sogno Serie A è più vivo che mai ma bisogna resettare tutto e ripartire da zero perché i playoff sono un altro campionato, un'altra storia, tutta un'altra musica Appassionati di futsal, buonasera ad Antonio Iozzo Questo è il to leave, questa è Roma Melilli Gara valida per l'andata del primo turno dei playoff di Serie A2 Elite Pallone sulla sinistra, profondità, Ike si gira, giocata, mancino, gagno Respinge Kamel in fallo laterale, il primo spunto di Ike Rischia qualcosa, perde il pallone, attenzione, Lara calcia, Dovara si esalta Prima occasione per la Roma con il suo capitano e con il riflesso di Dovara Venti avversario che riparte, Kamel recupera, prova il 22, Lara calcia Dovara salva, ancora Lara che ha cercato lo scavetto È stato bravissimo Dovara a restare in piedi Uno contro uno, Lavrendi le finte, la giocata Lavrendi per Dallago Salva Dovara che mette in angolo Pallone interessante per Lavrendi che ha tanto spazio È messo male il Melilli, attenzione a Guerini Guerini in area di rigore, Guerini, Bocci, forse con la mano Gianino fermato, Fantini con il turbo, Fantini si ne va, conclude Dovara salva e Kamel spara alto Spalla la porta, apre bene per Lara che calcia Dovara chiude sul primo palo concedendo il male minore Vale a dire il calcio d'angolo Lutta per Da Silva La sblocca la Roma Il vantaggio dei giallorossi 1-0 al quarto del secondo tempo Fantini recupera il pallone Poi lo perde, attenzione a Rizzo che calcia Gagno straordinario con il piede destro Poi tocco con l'esterno per Guerini che vuole puntare spampinato Guerini passa in mezzo a due Termina a terra il fallo di Corallo Sul guizzo di Guerini che ha spezzato il raddoppio In questo secondo tempo lutta per Kamel Il destro! Il raddoppio della Roma La firma di Luca Kamel 2-0 al tredicesimo del secondo tempo Ancora lutta in versione assistman E Luca Kamel Porta la Roma sul doppio vantaggio Che adesso recupera un altro pallone Poi Guerini se ne va Guerini calcia Dovara a dire di no Giannino per Failla Gagno sul pallone Ma arriva il fisco e il direttore di gara Calcio di rigore per il Melilli Proteste della Roma Sull'uscita di Gagno Fischia il direttore di gara Ike con il destro Calcia! E accorcia le distanze La rete del Melilli 1-2 a 55 secondi Dalla sirena Corallo forte verso la porta Taggagno la tiene Vince la Roma che si aggiudica Il primo round Contro il Melilli Melilli sconfitto 2-1 al Tulive Il doppio vantaggio dei giallorossi Con Da Silva e Kamel Poi la rete dei siciliani Sul rigore Siglata da Ike Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì